Sono le 16.30 quando nel momento in cui veniva costruito un arco portante di una casa colonica in via Pisana, un muro ha ceduto, morto sul colpo, un operaio di 54 anni di origine del Marocco e feriti, un ragazzo di 28 anni e un italiano di 47 anni che sono stati trasportati al Torre Galli e anche per loro le condizioni sono in via di definizione, quindi un'altra morte bianca in Toscana nel comparto Edile, su questo incidente sta indagando la magistratura, questi appunto i dettagli che abbiamo per ora, poi nelle prossime edizioni i particolari su questa tragedia.